viene da una cultura di diversa accusato da calenda sostanzialmente venezuelano di essere bolshevico, di aver fatto un es proprio proletario come risponde? Perché questa è un'accusa sottile non è neanche tanto sottile, è semplicemente un'idiozia perché è per forza, ma diciamo le cose come stanno chi si è avvantaggiato oggi dalla gestione di un bene di Stato purtroppo esclusivamente è il privato che lo gestiva benissimo, chi lo dice? Toninelli? non solo Toninelli, la Corte dei Conti sapete cosa ha dichiarato la Corte dei Conti? che il contratto era illegittimo sapete che cosa significava? che non poteva avere quelle clausole capestro qua come l'hanno scavalcato prima però di 2007 poi Berlusconi 2008 Salvini alla Camera votò a favore della legge Salva Benetton che la legificava ha detto che era illegittimo e quindi l'hanno legificato che cosa significa? che ristabilire i giusti interessi, i giusti rapporti tra l'interesse pubblico e l'interesse privato significa che siamo di fronte ad uno Stato serio uno Stato che è tornato a fare il proprio dovere bene, c'è un problema che possiamo spiegare subito con l'ingresso di Cassa Depositi e Prestiti in autostrade Cassa Depositi e Prestiti si accolla anche il debito che Aspi ha questo è il primo aspetto secondo, i Benetton non è che sono spariti i Benetton rimangono con una quota molto marginale e senza nessun ruolo di comando ma rimangono dentro Aspi quindi che razza di vittoria è alla fine? perché lo Stato sarà quello che ci dovrà mettere i soldi e che si accolla pure il debito e gli altri investitori quanto verranno pagate? le quote di Benetton che passeranno a Cassa Depositi e Prestiti? questo non si sa ancora no, allora, lo Stato non si addebita nulla lo Stato entra attraverso il CDP che il CDP fa investimenti ad alta remuneratività alzando la quota di capitale diventa quindi il socio azionario e dopo in pochi mesi diventerà maggioritario ma non, o meglio, il socio più importante dopo pochi mesi diventa socio maggioritario significa che prendiamo la convenzione che era piena di articoli veramente infami per l'interesse collettivo tipo quello che ti dava tutti gli utili anche se ti revocavo gli utili dal giorno della revoca alla fine della convenzione cioè per 20 anni erano 23 miliardi le stracciamo tutte perché è lo Stato che entra sapete cosa hanno perso Aspi e la famiglia Benetton grazie a questo straordinario risultato 23 miliardi netti di utili 11 miliardi lordi l'anno un miliardo netto ma scusi, non è che c'è da gioire no, non è perché non penso dei soldi scusi, è che vanno al pubblico non vanno solo nel pubblico che ci saranno anche altri azionisti azionisti privati ma l'impronta ora non è più soldi, 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 soldi zero sicurezza, zero manutenzione è tanta sicurezza tanta manutenzione pedaggi più bassi tra pochi mesi chi è a casa i pendolari i automobilisti gli autotrasportatori vedranno abbassati per la metà delle autostrade i pedaggi ma si è mai visto una roba del genere? Grazie a tutti Grazie per la visione